Buonasera a tutti, sono qua stasera perché ho sentito la necessità di rassicurare la città perché recentemente ho avuto modo di notare che alcuni consiglieri di opposizione hanno diffuso notizie false e fuorvianti sulla situazione finanziaria dell'ente. Nello specifico si parla addirittura di aumenti spropositati dei residui attivi, quelli per intenderci residui attivi sono i crediti che l'ente deve ancora incassare. Dati in mano, invito anzi tutti eventualmente a verificare, consultando le delibere di approvazione dei rendiconti degli anni precedenti che sono regolarmente pubblicati nel sito dell'ente, voglio passarvi il rassegna solo gli ultimi tre anni. Al 31-12-2015 il rendiconto del comune di Granmichele si è chiuso con circa 13 milioni di residui attivi. Al 31-12-2016 chiudiamo con 11 milioni di residui attivi. Al 31-12-2017 chiudiamo con 10 milioni di residui attivi. Era una cosa che avevo già anche rappresentato in consiglio, manifestando infatti la mia soddisfazione sul miglioramento della situazione finanziaria. Avevo anche rappresentato la notevole riduzione sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, sul miglioramento dei pagamenti ai fornitori. Quindi ancora una volta mi sento di rassicurare la città su quello che è la situazione finanziaria dell'ente. Pertanto invito qualunque consigliere dovesse avere dubbi che ritengo legittimi nel leggere i documenti finanziari dell'ente, lo invito a chiedere tutte le spiegazioni che vogliono al direttore dell'ufficio ragioneria o se ritengono opportuno ad eventuali ulteriori approfondimenti, rivolgendosi ad esperti della contabilità pubblica. Grazie